io farei un applauso se sei d'accordo a questo evento incredibile ragazzi incredibile ma questo non è solo un evento dedicato all'edilizia un momento di spettacolo un momento di cultura un momento di aggregazione di solidarietà vogliamo chiamarla sul palco ma si chiamiamola anche perché è bella è bella io l'ho vista prima la responsabile marketing della dipinto edilizia valeria valeria raccontaci un po la storia di questa azienda come nasce c'è un rapporto con i clienti quasi fraterno considerate che questa è un'azienda che è nata 47 anni fa abbiamo visto i padri poi figli e poi addirittura i nipoti siete cresciuti siete diventati una realtà incredibile l'affetto di questo pubblico lo testimonia siamo molto contenti anche anche quest'anno i nostri clienti hanno risposto favorevolmente a questa iniziativa loro sono i migliori esponenti del reparto tu pensa agli altri come stai iniziative servono anche per omaggiare i nostri clienti per ringraziarli ogni giorno insomma di del rapporto che poi si è creato nel tempo dalla famiglia dipinto e cioè fermi perché qui voglio il boato guarda tonio roberto mauro e giustina te ne devi andare perché ti studi mi sento un po rumoso grazie arrivederci alla prossima grazie a tutti grazie a tutti